Mi scusi, lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi. Ad oggi nessuna. Quindi per libero professionista che cosa intende? Poco professionista, molto libero. Mi scusi, lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi. Ad oggi nessuna. Quindi per libero professionista che cosa intende? Poco professionista, molto libero. Mi scusi, lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi Ad oggi nessuna Quindi per libero professionista che cosa intende? Poco professionista, molto libero